magari uno è nell'aula di chimica sicuro tipo il cloratoli di sodio e forse anche lo zucchero intanto ovviamente continuo a guardare tutto eccolo qua zucchero ottimo vediamo un po' ma come non so cosa significa periodica comunque qua non vedo cosa no qua si roba di chimica vediamo un po' ok niente non me lo fa devo fare per forza il giro ma ci sono i graffiti però non ci serviranno ok oh l'acquario ok ora possiamo chiudere aspetta 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 ah in effetti siccome sappiamo quanto è imbranata ok manca ancora il nastro adesivo e basta, no vabbè abbiamo lasciato indietro delle cose vabbè dai vediamo dove potrebbe essere il nastro adesivo forse nell'aula di jefferson può essere sì perché qua non c'è più niente ok come al solito io la visuale la so muovere mi dicono che poi io ho solo notato ora l'orario che è probabilmente siccome è già da un bel po' che sto andando avanti a registrare e dividerò l'episodio a metà perché non vi posso caricare un episodio in 40 minuti oh eccolo perfetto abbiamo tutto allora possiamo trovare basta basta Sì. ok solo queste foto c'erano ok e allora boh niente torniamo da Chloe aspetta era di qua mi sa infatti ciao Chloe abbiamo tutte le cose lascia fare a noi so fucking cool oh we are toast here comes the whole arcadia bay fire and police department uh so what should we do Corriamo Facciamo una cosa di sto genere In teoria dovrebbe funzionare Così la porta è chiusa Esattamente Ciao Chloe Come stai? Si io posso ottenere questa bambina, non si può trattare Oh, questo è bambino F*** tu, Dora Welcome to my domain You are magic I have no clue how the hell you got in there But you did it, Sista The company I keep Now, let's find what we want and beat it My powers only go so far Man, I can see why the principal Locks this room up Fancy faux art crap He must want everybody to know he has money But no taste How can you trust somebody who has a f***ing bronze bird in his office? I'm glad I was a god Yes, if only the principal had a Monet or Picasso You'd still be a black wall Eat me I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk Okay, sure It's ugly But damn, is it a cozy chair This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock Find us some clues about Rachel Or Kate Or Nathan Anybody I'm on the case This pretty much sums up Kate Shy and sweet And in the wrong place Okay, I'll give you two more files to go You're not so tacky up close Wow, ma non ispira troppo That is so cool that my signature actually counted Go Miss Grant Mi tiro per essere sta grandi In quanto preside delle camere Dove... Ah, okay Praticamente dice che la petizione della tizia Della prof È servita E... Boh E quindi le telecamere non verranno inserite Messe Okay Humbleweeds Ma se manco l'hai guardata Vabbè So, Nathan Prescott's dad is a bully too Shocker Ehm Sì, vabbè, rido Praticamente il papà di Nathan Essendo che dava soldi alla scuola Essendo che la scuola ha sospeso Nathan E non le vuole più dare E li riprenderà a dare Solo quando lo riammetteranno Che Certo This asshole has a spotless record Media 3,7 4 Scusa Non è un brutto Come Boh, vabbè Continua Vabbè Sembra il ragazzo perfetto Insomma Giudicare quello che hanno scritto Vediamo Ma Tipo la media Non è bassa Boh, vabbè Ressunto max Come Riusci a essere chiamata Così Studente Tranquilla E attenta Con un grande potenziale Per la fotografia Ok Sì Sembra anche lei Bello il suo curriculum Alcuni docenti vorrebbero che Max Interagis Interagis Ah Interagisse Ok Di più in classe Fosse più deciso Oh, le stesse cose che dicono i prof Di me Aggiornamento Nonostante Max ha cercato in mano di distruttare la studentessa Kate Marsh E da gettarsi dal tetto del dormitorio Ok Il coraggio di Max è indiscusso Ok Vittoria Il top Vabbè Dell'Accademia Blackwell Media elevata Carriera fotografica Devozione di Victoria Al Vortex Club E vabbè Basta Oh, Warren Ha dei precedenti Cos Warren è considerato Uno studente Esemplare E rappresenta La lunga tradizione Di eccellenza Nelle scienze La Blackwell Ha il prestigio Difetto di avere Una bella parlantina Alcuni non hanno Accusato Di come Descarci Scendi Speriamo di vedere Warren Concentrarsi Sulla sua visione Accademica Continuare il suo percorso Verso un futuro Brillante Ok Guardiamo qua L'ultima cosa Oh mio dio Quanta roba Ci devo leggere Ha smesso di frequentare Le lezioni Da un mese Non ha contattato Nessuno Attualmente i genitori Non sanno dove si trova La Blackwell Spera che farà Presto ritorno Per riprendere Sua eccellenza Accademica È il diamante È il diamante dell'accademia Blackwell E c'è lì in tutti i suoi studi E nelle attività Popolare fra gli studenti Le ambizioni Includono la carriera Del diritto internazionale Modella Realizzerà tutti i suoi sogni Con la Blackwell Come fulcro E il preside Qui il tenente Chris Rossi Volevo solo informarla Che da parte nostra In chiesa Racer Ember È stata ufficialmente Chiusa Come? Ma se non la trovate Speriamo sempre Di trovare Una prova schiacciante Eh provate Ancora a cercare Ha ingoiato Un altro Stato Creta Ancora Arcadia Vabbè insomma No aspetta Non l'avevo finito C'è l'altra gente Da vedere C'è anche Chloe Chloe press È una studentessa Problematica Fa raramente i compiti E spesso ha mostrato Aggressività Ripetutamente Interrotto le lezioni Con commenti inappropriati E gesti osceni Sospesa Per aver vandalizzato Il parcheggio Con lo spray È una studentessa Intelligente Dall'alto potenziale Ma si spreca Non è più Una studentessa E basta Vedere i rapporti Di polizia Allegati Ma come? Vabbè E basta Insomma Bottiglia di whisky Cosa Vabbè Insomma Andiamo da Chloe Le diciamo Abbiamo trovato Dall'alto potenziale Dall'alto potenziale Non è la sedia Non è la sedia Jackpot Jackpot Cha-ching Wow Sono i soldi Di Nathan Parliamo di Nathan E onestamente Chi se ne frega Una scuola Che fa schifo Rubbiamo il denaro E chi se ne frega So che è sbagliato Tantissimo Però Come ha detto Chloe Cioè Mi può portare A Frank Così non rompe Le scatole Proviamoci Ma come? Vedere i spogliarelli Le cose Eh lo so però Pensa alle cose positive Sono causato Non è vero Non è vero Spero Ma come questo Non è vero Ma come se Non c'è Non c'è La prima parola Non rinamento Con un'escrizione Non c'è La prima parola Sei Che La prima parola า Ma che cosa? Va bene Pandoli, io comunque direi di concludere qua, è un'ora che sto registrando e dovrò dividere l'episodio in due perché è venuto troppo lungo. Io appunto concludo, mi raccomando non dimenticate di lasciare un mi piace, di condividere il video e ci vediamo a un prossimo episodio di Life is Strange. Ciao!